Ciao, io sono Jonathan e vengo da Roma. Sono qui in Albania da una settimana con Maria, Simona e Luca. Siamo partiti da Durazzo e abbiamo disceso la costa verso sud, verso Valona e ci sono piaciute molto le spiagge di Gipè, Drimades e Lucova. Poi abbiamo visitato le città ottomane di Argiro Castro e Berat, anche queste ci sono piaciute moltissimo. E infine siamo arrivati al lago di Oclid, che è un posto stupendo. Ci è piaciuta moltissimo l'ospitalità delle persone e la gentilezza degli albanesi. In particolare, quando eravamo a Lucova siamo stati addirittura ospitati nel terreno di un ristorante dove avevamo mangiato perché non sapevamo dove andare a dormire. Sicuramente una volta tornati in Italia suggeriremo a tutti i nostri amici di venire in Albania perché è un posto stupendo, la gente è molto bella, si spende poco e quindi siamo felici. Grazie